Musica Musica Salve a tutti Salve a tutti, siamo qui a Nola in Piazza Duomo e come ogni anno prima della finalissima, benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio. Conosciamo le finaliste di Miss Vesuvio 2022. Salve a tutti, mi chiamo Silvia Sudano, ho 16 anni appena compiuti. Musica Frequento il terzo anno di liceo scientifico ordinamentale a Pumiliano d'Arco. Questo indirizzo contempla anzitutto più ore di inglese, seguita appunto da un apposito prof madrelingua, ma anche più ore di latino, materia che personalmente prediligo. Questo corso di studi mi impegna moltissimo in quanto sono una ragazza molto studiosa e volentierosa di dare il meglio di sé, ma ciononostante la mia vita non è fatta solo di studio, in quanto frequento sin da quando ero molto piccola la palestra, che rappresenta per me una seconda casa, ma anche un luogo sicuro. Da quando ero piccolina ho iniziato appunto con la danza classica, cimentandomi poi nella ginnastica artistica e proseguendo con vari tipi di ballo. Musica Musica Grazie a tutti Grazie a tutti Sono una ragazza molto fortunata in quanto ho una famiglia meravigliosa, molto unita e che amo profondamente. Infatti i miei genitori mi hanno cresciuta con amore ma soprattutto con fermezza, indirizzandomi sempre sulla retta via e aiutandomi in ogni circostanza. Mio padre è spesso severo e rigoroso, infatti capita talvolta di battibeccare poiché magari uno mi è permesso uscire la sera o fare tardi. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti Per quanto riguarda invece il concorso di Miss Vesuvio, quest'ultimo mi ha introdotta per la prima volta in un mondo che non conoscevo. Ma ammetto di esserne rimasta sin da subito entusiasta in quanto sono stata colpita soprattutto dal rispetto e dalla serietà con cui sono trattate tutte le ragazze da parte dello staff. Con alcune di esse infatti ho instaurato un buon rapporto leale e sincero, quindi privo di invidia e di cattiveria. Che cosa mi aspetto invece dalla finale di Miss Vesuvio 2022? Allora, di certo mi aspetto di fare una bella figura e una bella esperienza, ma anche di avere qualche chance per continuare a sognare. In questi pochi minuti ho cercato di presentarmi, quindi facendovi conoscere un po' di me stessa, mostrandovi delle spaccettature del mio carattere, quelli che sono alcune parte dei miei obiettivi. E niente, cosa posso dire? In bocca al lupo a tutte, ma soprattutto in bocca al lupo a me. Ciao! Ciao! Oggi Campania in Pillole vi porta a Torre del Greco, nota nel mondo soprattutto per la lavorazione artigianale dei coralli, dei cammei e della madre perla. Grazie a tutti!